buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato buongiorno a tutti i miei cari studenti da antonio benvenuti a questa lezione di italiano livello avanzato in questa lezione concludiamo l'unità 29 l'unità che parla dell'antica roma la volta scorsa eravamo arrivati all'inizio di pagina 162 riprendiamo proprio da quella pagina dalla pagina 162 dalla parte f che ci dice parliamo e scriviamo il primo esercizio va fatto oralmente e ci dice in gruppi di tre discutete e prendete appunti cosa sapete o cosa ricordate dell'impero romano quanto durò perché cadde poi scambiatevi informazioni con gli altri gruppi vabbè ovviamente questo esercizio non lo possiamo fare in gruppi di tre perché qua non ho tre persone con me ma lo faccio io per voi dunque secondo me è molto difficile tentare di riassumere in poche frasi tutta la storia dell'antica roma dell'impero romano però insomma possiamo tentare di riassumere alcuni punti chiave magari alcune date qualcosa di questo tipo dunque dobbiamo ricordarci che ovviamente roma non nasce già così come capitale di un impero no assolutamente roma nasce intanto come città poi nasce come capitale di un regno perché all'inizio c'era il regno di roma non l'impero e questa è quella che viene chiamata dagli storici l'età regia quindi l'età del regno di roma e dei sette re di roma è durata più o meno due anni dal 753 al 509 avanti cristo dall'età regia poi passiamo all'età repubblicana quando invece roma era una repubblica quindi la repubblica romana questa età questo periodo storico è durato all'incirca 500 anni facciamo dal 509 al 31 sempre avanti cristo e dall'età repubblicana si passa ovviamente all'età imperiale l'età imperiale è vista da tutti e io dico a ragione come l'età di massimo splendore nella storia di roma questa età è durata all'incirca quattro secoli dal 31 avanti cristo al 476 diciamo che nel 476 gli storici fanno coincidere la data della caduta dell'impero romano anche se sappiamo che almeno l'impero romano bizantino cioè quello d'oriente è durato almeno un altro millennio infatti è accaduto nel 1453 ma questa è un'altra storia va bene per adesso queste sono le date storiche più o meno importanti cosa possiamo dire ancora dell'impero romano vabbè l'impero romano sappiamo che alla sua guida ci sono stati imperatori virtuosi quindi persone molto abili e persone molto capaci di regnare e anche con una certa filosofia dietro che facevano le cose con un metodo e che sapevano dove mettere le mani fondamentalmente di questi personaggi possiamo ricordarne possiamo menzionarle almeno tre abbiamo augusto che ufficialmente fu il primo imperatore romano abbiamo traiano che è stato considerato come il migliore degli imperatori romani e abbiamo ancora costantino nominato il grande che è stato il primo imperatore romano di fede cristiana accanto a questi personaggi che vengono ricordati nella storia come uomini virtuosi appunto possiamo metterci alcuni imperatori che diciamo non avevano tutte le rotelle a posto o almeno così ci viene raccontato sui libri di storia qui ne nominiamo due il primo è caligola che si dice avesse nominato senatore un suo cavallo quindi insomma una cosa un po' matta da fare e che avesse rapporti incestuosi con le sorelle e un altro è nerone ovviamente che bruciò roma e ne diede la colpa ai cristiani adesso possiamo rispondere alla domanda perché cadde l'impero romano specialmente si riferisce all'impero romano d'occidente credo che regnò per quattro secoli e poi d'improvviso cadde beh cadde a causa delle invasioni barbariche di cui la maggior parte degli italiani ricorda principalmente le invasioni della popolazione della tribù degli unni capitanati dal terribile attila è rimasta famosa questa frase che dove passa attila non cresce più l'erba è una frase che sta ad indicare il disprezzo o anche l'ammirazione se vogliamo per questa figura leggendaria di attila che fondamentalmente è un simbolo di distruzione poi la domanda numero due ci dice nel testo abbiamo letto l'affermazione noi governiamo il mondo ma sono le nostre mogli a governare noi commentate questa frase secondo voi è ancora valida beh secondo me da un certo punto di vista sì è ancora valida è una frase che conserva tutta la sua validità e sappiamo che ancora adesso in molte parti del mondo si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e forse io ritengo che il termine governare sia un po troppo forte di questi tempi forse dovremmo sostituirlo con un termine più adatto all'età moderna come può essere amministrare cioè i grandi leader mondiali gestiscono e amministrano il mondo ma le first lady le possiamo chiamare le mogli le compagne dei grandi leader mondiali amministrano la vita privata dei grandi leader mondiali quindi magari si occupano di tutto quello che riguarda loro alcune di queste donne si vede proprio che hanno quello spirito da donna di ferro che non fa mai perdere loro la calma che quindi rimangono calme rimangono a sangue freddo anche in situazioni particolarmente spinose o comunque difficili da affrontare quindi secondo me questa frase qua conserva da un certo punto di vista la sua validità esercizio numero 3 ancora una volta orale in coppia preparatevi per due tre minuti e poi parlate brevemente al resto della classe di un personaggio importante nella storia del vostro paese allora qua io lo so che molte persone al mio posto sceglierebbero di descrivere un personaggio cinese del tipo un condottiero per esempio che ne so qualcosa del tipo giug liang oppure zhao zhao però io voglio andare un po più sul sicuro diciamo e voglio narrare la vita di confucio perché è una cosa che conoscono tutti più o meno è vero cinesi e non cinesi ovviamente non cinesi un po di meno però grosso modo via ce la possiamo fare dunque sappiamo che confucio secondo la tradizione nacque in uno stato chiamato lu ok uno stato di lu che è corrispondente grosso modo alla provincia dello shandong di adesso e nacque nell'anno si dice sempre nell'anno 551 avanti cristo una cosa che ho notato in tante biografie quella che molti ci mettono anche una data una data simbolica penso il 28 settembre 551 avanti cristo e nel 551 avanti cristo la cina era alla fine del periodo della dinastia jiu chiamato periodo delle primavere e degli autunni conosciuto in cina come chunzio e di lì a poco si sarebbe entrati nel periodo degli stati combattenti è vero quello subito successivo sempre della dinastia jiu che si chiama jian guo poi sappiamo che confucio non ha mai negato di essere di origini umili infatti sappiamo che apparteneva a una famiglia che era stata nobile ma che poi era stata impoverita e c'era una grande differenza di età fra il padre e la madre infatti quando lui è nato il padre aveva 65 anni e la madre ne aveva soltanto 15 quindi immaginate un po che unione poteva essere infatti veniva chiamata un'unione illecita le notizie sulla sua vita privata si hanno principalmente da due fonti le prime sono i suoi dialoghi vero quelli che in cinese si chiamano i lungyu i dialoghi di confucio e l'altra fonte attendibile o almeno che è stata considerata attendibile per tanti anni è quella di sma xian le memorie di uno storico si dice che confucio amasse insegnare e che lo facesse non per essere pagato ma che preferisse ricevere come compenso una qualche piccola offerta in natura la sua scuola comprendeva numerosi discepoli e alcuni dei quali ovviamente fecero carriera dopo la morte del maestro ma sappiamo anche che questa scuola in un periodo della sua vita dava anche molto fastidio ai potenti e infatti molte persone fra cui confucio stesso fu costretto a spostarsi spesso dal suo luogo di residenza infine nell'ultimo periodo della sua vita ricoprì cariche ufficiali come uomo di corte e dopo un lungo peregrinare tornò nello stato di origine nello stato di lu e passò oppure trascorse gli ultimi anni della vita dedicandosi principalmente all'insegnamento dato che i suoi discepoli erano in numero sempre maggiore va bene questa era brevemente la biografia di confucio ok ricostruita e sintetizzata all'estremo andiamo avanti la prossima domanda è una domanda che va fatta per iscritto e ci chiede i tesori artistici non sono soltanto attrazioni turistiche ma anche la storia viva di un paese eppure quante volte ci passiamo accanto senza riflettere sulla loro importanza spesso i turisti li conoscono e li rispettano più di noi esprimete le vostre riflessioni in proposito con un numero di parole che va dalle 220 alle 250 bene io inizierei così la voce del passato e la voce della storia ci parlano attraverso i documenti storici e i grandi monumenti che sono nelle grandi città ma attenzione perché queste voci sono lì soltanto per chi sa ascoltare sembra infatti che il colosseo non abbia più nulla da dire e di conseguenza nulla da insegnare al romano che per vent'anni di fila ci passa davanti ogni giorno con l'autobus per questa persona e per chissà quante altre persone insieme con lui o lei il colosseo diventa semplicemente qualcosa di muto un semplice addobbo una decorazione della città un qualcosa da notare o magari anche un qualche luogo in cui andare per abbordare turisti stranieri e parlando di turisti stranieri a volte sono proprio loro ad aprirci gli occhi sulle innumerevoli bellezze sparse per tutto il territorio italiano e sono proprio loro ad aprirci le orecchie sulla voce del passato e la voce della storia che non ha ancora finito di parlare e che ha ancora tanto da dire ovviamente i turisti stranieri con i loro di meraviglia e le loro mille fotografie nei luoghi storici ci fanno ricordare il privilegio che abbiamo a vivere in italia un paese i cui innumerevoli tesori sono ammirati in tutto il mondo e se proviamo a prescindere dalla categoria del turista ma non da quella dello straniero ci accorgiamo che studi sul colosseo vengono pubblicati ogni anno in america in inghilterra in cina in tutto il mondo e questo non fa che confermare ancora una volta che il colosseo fra le tante opere artistiche che abbiamo qui in italia ha ancora tanto da dire non male per un addobbo una decorazione cittadina vero ok benissimo così questo era quello che avevo da dire su questo argomento adesso passiamo alla parte g la parte g si chiama riflettiamo sulla grammatica e che cosa ci dice ci dice nell'ultimo paragrafo del testo a pagina 160 abbiamo letto che alcune donne nell'antica roma lottarono come gladiatori e parteciparono a incontri di lotta e guidarono carri sapreste spiegare la differenza tra l'uso del passato remoto e del passato prossimo ricordate come si forma il trapassato remoto vabbè qui è una cosa molto semplice allora queste due frasi hanno tre verbi in totale che sono al passato remoto proviamo un attimo a metterle al passato prossimo e vediamo che cosa cambia quindi questo lottarono come gladiatori diventa hanno lottato come gladiatori parteciparono a incontri di lotta diventa hanno partecipato a incontri di lotta e guidarono carri diventa hanno guidato carri che differenza c'è c'è una grande differenza perché il passato prossimo si differisce appunto ad eventi vicini ad eventi che non fanno parte della storia lontana mentre il passato remoto sì perché remoto appunto significa lontano se un italiano sente queste frasi hanno lottato come gladiatori hanno partecipato a incontri di lotta e hanno guidato dei carri l'italiano non penserà mai e poi mai alla descrizione delle donne nell'antica roma ma penserà che l'evento descritto sia un qualcosa di più recente perché appunto il passato prossimo non ci dà l'idea di storia il passato remoto invece ci fa guardare le cose con distacco e il passato remoto se vi ricordate viene utilizzato per eventi storici per eventi lontani da noi qui insomma stiamo parlando di 2000 anni fa e per eventi che noi vogliamo mettere come lontani a un livello psicologico quindi eventi da cui ci vogliamo distanziare a un livello psicologico poi ci ricordiamo come si forma il trapassato remoto certo che ce lo ricordiamo dunque prendiamo il passato remoto dell'ausiliare essere o avere e ci mettiamo il nostro bel participio passato di fianco per esempio qui possiamo provare a fare il participio passato di questi tre verbi quindi questo lottarono diventa ebbero lottato perché lottare vuole il verbo avere vuole l'ausiliare avere parteciparono di nuovo ausiliare avere ebbero partecipato e guidarono ancora una volta ebbero guidato in questo modo si forma il trapassato remoto e il trapassato remoto di solito viene usato per un'azione che è anteriore a quella descritta con il passato remoto quindi un'azione che succede prima dell'azione descritta col passato remoto bene andiamo avanti siamo a pagina 163 l'ultima pagina di questa unità la parte h ci dice lavoriamo sulla lingua ecco qua che cosa sapete del colosseo e dei gladiatori parlatene ok benissimo qui una cosa che vi devo dire è che ho trovato un articolo molto interessante chiamato le dieci cose che non sai sul colosseo io qua ovviamente non ve le dico tutte dieci ma vi faccio un breve riassunto delle cose molto interessanti secondo me sul conto del colosseo e dei gladiatori ok per quanto riguarda il colosseo sappiamo che in origine si chiamava anfiteatro flavio perché anfiteatro flavio perché la sua costruzione fu ordinata dall'imperatore vespasiano che apparteneva appunto alla dinastia flavia e quindi anfiteatro flavio poi sappiamo anche che fu ultimato cioè fu terminato in un tempo da record secondo me cioè soltanto cinque anni dal 75 all'80 dopo cristo nell'80 dopo cristo era già bello che pronto sappiamo che poteva contenere una quantità massima di facciamo 70 75 mila spettatori che voglio dire non sono pochi assolutamente e che la sua superficie occupa più o meno 24 mila metri quadri anche qua non sono pochi assolutamente poi vediamo come si svolgeva una giornata tipo al colosseo dunque sappiamo che una giornata al colosseo per vedere le lotte dei gladiatori iniziava la sera prima perché c'era l'organizzatore dei giochi che organizzava una cena aperta al pubblico per i gladiatori in modo tale che le persone che andavano poi a guardare gli spettacoli potessero vedere e ammirare i gladiatori da vicino poi la mattina seguente tutti i gladiatori sfilavano ok praticamente facevano una specie di sfilata all'interno del colosseo con tutte le armi decorate tutte le decorazioni e poi iniziavano le lotte finalmente che potevano essere tra animali all'inizio o tra animali e uomini poi andando avanti poi per l'ora del pranzo c'era di solito una condanna a morte ok quindi a ora di pranzo veniva eseguita una condanna a morte pubblica che cosa brutta mamma mia quindi c'erano persone che venivano bruciate a rogo che venivano crocifisse oppure che venivano sottoposte a quella che viene chiamata damnazio ad bestias in latino cioè che venivano fatti divorare dalle belve in molti casi dai leoni mentre la parte significativa dello spettacolo avveniva il pomeriggio cosa succedeva il pomeriggio c'erano i duelli tra gladiatori quindi duelli all'ultimo sangue spesso e volentieri cioè fino alla morte fra persona e persona a proposito ancora di gladiatori e di colosseo una curiosità molto carina secondo me questa qui che il colosseo è apparso in molti film addirittura è stato il set di molti film però il film in assoluto più rappresentativo del colosseo che è il gladiatore un film anche abbastanza recente non è stato girato all'interno del colosseo perché ci sono stati dei problemi di organizzazione quindi il colosseo è stato ricreato all'infuori della città di roma in maniera più specifica in tunisia e a malta ok questa secondo me è una cosa più carina cioè il film che più rappresenta il colosseo non ha il colosseo al suo interno cioè non ha quello vero diciamo e va bene adesso possiamo leggere questo testo che dobbiamo completare con gli elementi mancanti ovviamente leggiamo paragrafo per paragrafo e vediamo un po che cosa significano tutti questi paragrafi dunque dice i gladiatori lottavano per finta nuova teoria di un archeologo morire al colosseo per un gladiatore sarebbe molto più probabile essere ucciso a hollywood e tatatata sostiene steve tuck archeologo statunitense tatatata esaminando una serie di reperti provenienti dall'antica roma si è convinto che i combattimenti dei gladiatori erano delle messe tatatata scena paragonabili ai moderni match di wrestling nei tatatata nessuno si faceva male davvero tatatata a che vedere dunque con le scene cruente di tatatata colossal hollywoodiani tatatata quo vadis o il gladiatore ok già il titolo di questo articolo è abbastanza provocatorio i gladiatori lottavano per finta cioè tutto quello che abbiamo visto tutto quello che abbiamo studiato di queste lotte all'ultimo sangue fra gladiatori sembra che fossero tutte una finta secondo questo archeologo che viene intervistato allora dice per un gladiatore sarebbe molto più probabile essere ucciso a hollywood cioè nei film di hollywood piuttosto che al colosseo ed è questo quello che sostiene steve tuck questo archeologo statunitense dunque qui possiamo metterci una parola sola che è quanto ok questo è quanto sostiene steve tuck archeologo statunitense perché qui diciamo che se potessimo metterci due parole potremmo tranquillamente mettere quello che sostiene oppure ciò che sostiene eccetera eccetera però dato che qua siamo vincolati penso a una parola sola allora ci mettiamo quanto ok è questo quanto sostiene steve tuck archeologo statunitense che esaminando una serie di reperti provenienti all'antica roma si è convinto che i combattimenti dei gladiatori erano delle messe in scena cioè erano degli spettacoli non erano nulla di vero nulla di genuino nessuna battaglia all'ultimo sangue e addirittura sono paragonabili cioè sono assimilabili se vogliamo sono la stessa cosa una cosa molto simile a quello che succede nel wrestling no il wrestling americano nei quali nessuno si faceva male davvero cioè in questi incontri nessuno veniva davvero ferito quindi niente a che vedere cioè questa cosa qua non c'entra niente con che cosa con le scene cruente cioè le scene molto violente piene di sangue di grandi colossal hollywoodiani questo colossal sta per film molto grandi film anche di che trattano gli argomenti storici vengono chiamati colossal colossal hollywoodiani qua possiamo metterci come quovadis o il gladiatore oppure va benissimo anche quali quovadis o il gladiatore andiamo avanti la lotta gladiatoria è stata associata all'uccisione e allo spargimento di sangue ha spiegato tac un articolo pubblicato dalla rivista new scientist in realtà penso che si trattasse di un'arte marziale a puro scopo di intrattenimento volta far divertire gli spettatori va bene adesso completiamo anche questo paragrafo e cerchiamo di spiegarlo per quanto questo paragrafo è abbastanza semplice non penso ci siano grandi problemi di comprensione comunque la lotta gladiatoria è sempre stata associata all'uccisione e allo spargimento di sangue cioè si è sempre pensato che la lotta gladiatoria consistesse in uccisioni e tanto sangue tanto sangue che viene versato che esce fuori dai corpi e che quindi viene versato per terra questo è lo spargimento di sangue ha spiegato tac dove in un articolo pubblicato dalla rivista new scientist oppure su un articolo pubblicato dalla rivista new scientist poi ma in realtà oppure però in realtà anche se ma ci sta meglio secondo me ma in realtà penso che si trattasse di un'arte marziale a puro scopo di intrattenimento cioè era soltanto per far divertire le persone e quindi è volta a far divertire gli spettatori cioè il cui scopo era far divertire gli spettatori andiamo avanti per circa 800 anni criminali prigionieri tata guerra e schiavi erano comprati da facoltosi romani per essere addestrati a combattere tata tata giochi gladiatori lottavano fra tata tata o contro gladiatori professionisti che erano uomini liberi in anfiteatri tata tata il colosseo ok fermiamoci qua un attimo quindi qua dice la racconta un po la storia di questa pratica di questa lotta gladiatoria dice che addirittura per molti anni quasi 800 anni c'erano dei criminali cioè delle persone che avevano fatto qualcosa che erano state poi imprigionate oppure prigionieri di guerra cioè persone che combattevano per un altro stato magari non per l'impero romano e che erano stati prigionieri dai romani e poi addirittura anche gli schiavi venivano comprati da facoltosi romani qui da ricchi romani e poi venivano addestrati qui essere addestrati equivale al cinese show xun lien ok quindi venivano addestrati per diventare gladiatori quindi a combattere nei giochi gladiatori addirittura venivano chiamati giochi lottavano fra loro quindi l'uno contro l'altro oppure contro gladiatori professionisti che erano uomini liberi quindi non erano schiavi non erano prigionieri in anfiteatri ancora quali il colosseo oppure come il colosseo ok qui abbiamo una doppia scelta generalmente dovevano sostenere due o tre combattimenti l'anno e se riuscivano sopravvivere a cinque anni di combattimenti potevano ottenere la libertà ok fermiamoci qua un attimo quindi combattevano due o tre volte all'anno se riuscivano a sopravvivere a cinque anni di combattimenti potevano ottenere la libertà cioè potevano essere liberati se dopo cinque anni non erano ancora stati ammazzati continuiamo tatatata secondo tac che ha analizzato 158 immagini risalenti a tatatata periodo raffiguranti i giochi il rischio per un gladiatore di venire ucciso era quasi inesistente quindi ancora una volta ma secondo tac che ha analizzato 158 immagini risalenti a quel periodo cioè quell'asso di tempo che è durato 800 anni nel quale venivano indetti i giochi gladiatori quindi raffiguranti i giochi ha preso 158 immagini raffiguranti i giochi il rischio per un gladiatore di venire ucciso era quasi inesistente cioè non esisteva quasi il rischio di venire ucciso e quindi di morire per un gladiatore lo studioso fonda la tesi su un raffronto delle immagini contenute su lampade e dipinti murali tatatata i manuali sulle arti marziali prodotti in germania e in italia tatatata il medioevo e il rinascimento ok lo studioso quindi no il ricercatore questo ricercatore che ha avanzato questa tesi fonda cioè si basa su che cosa si basa su un confronto un raffronto di queste immagini ok lui fonda che cosa la sua tesi oppure la propria tesi che sempre qui tesi non è lunga ma è l'undien ok immagini contenute su lampade e dipinti murali con i manuali sulle arti marziali prodotti in germania e in italia qui possiamo metterci tra oppure fra fra il medioevo e il rinascimento poi da tatatata confronto emergono una serie di similitudini dalle tatatata risulta che lo scopo del gladiatore era semplicemente quello di sconfiggere l'avversario non di ucciderlo quindi da questo confronto oppure da tale confronto quale confronto il confronto fra le immagini del periodo romano con le immagini dei manuali sulle arti marziali medievali e rinascimentali da questo confronto qua emergono delle similitudini quindi no da questo confronto oppure da tale confronto ci sono una serie di similitudini che vengono fuori no emergono dalle quali risulta che lo scopo del gladiatore cioè il gladiatore non combatteva per uccidere l'avversario ma semplicemente per sconfiggerlo ok quindi vabbè secondo me questo titolo è un po fuorviante perché se vuoi sconfiggere un avversario non combatti per finta combatti comunque ovviamente non combatti all'ultimo sangue cioè non combatti fino alla morte però è comunque un combattimento vero ok come quello della box voglio dire due pugili quando fanno box quando si scontrano non è che combattono per finta ovviamente non è che l'incontro deve finire con uno che ammazza l'altro uno deve sconfiggere l'altro però voglio dire da questo a dire che è un combattimento per finta ce ne passa secondo me va bene siamo arrivati all'ultima parte la parte i delle riflessioni linguistiche qui abbiamo un sacco ma un sacco ma un sacco secondo me troppi anzi troppe espressioni latine comunque vediamole un attimo e poi concludiamo qua cuovadis è il titolo di un famoso film ma anche una delle tante frasi celebri latine che significa dove vai altre frasi celebri o molto usate sono alea iacta est di cesare che significa il dado è tratto cioè ormai non ci si può tirare indietro poi abbiamo carpe diem cogli vivi l'attimo o tempora omores cioè che tempi che costumi detta da cicerone poi dura l'ex sed l'ex dura legge ma è la legge dulcis in fundo cioè il dolce la parte migliore viene in fondo viene alla fine forse il latino non piace a tutti però degustibus non est disputandum cioè i gusti non si discutono ok qui abbiamo una serie di frasi latine allora la prima è cuovadis che fra l'altro è anche il titolo di un film e anche di un libro che però qua non dice vabbè comunque viene da un episodio della bibbia in cui san pietro incontra l'anima di gesù che era già risorto che era già in paradiso dice cuovadis domine cioè dove vai signore ok poi abbiamo alea iacta est che significa ormai non ci si può tirare indietro cioè non possiamo ritirare una decisione dopo averla presa poi abbiamo carpe diem cioè non preoccuparti tanto del futuro ma vivi in questo attimo in questo momento poi o tempora omores cioè che tempi confusionari e che brutti costumi che brutte usanze poi dura lex sed lex cioè la legge è dura però è la legge e va comunque rispettata e poi abbiamo dulcis in fundo che significa la parte migliore di qualcosa arriva alla fine quindi se per esempio lo studiare italiano è tanto difficile all'inizio poi spero che diventi più facile alla fine e poi il parlare italiano con italiani è una cosa molto dolce molto soddisfacente per voi studenti di italiano poi dice il latino non piace a tutti però be gustibus non est disputandum cioè i gusti non si discutono cioè i gusti sono gusti se a una persona non piace il cioccolato per me è inutile andare da questa persona e dire ma come non ti piace il cioccolato ma come sei proprio una brutta persona così così colà così colà no perché i gusti non si discutono i gusti sono gusti punto e basta non si discutono sui gusti è difficile far cambiare idea una persona oppure far cambiare il gusto di una persona se questa persona ha già una sua idea un suo gusto vi dico ancora un'altra cosa che questo degustibus non est disputandum può essere anche usato nella sua forma abbreviata che è semplicemente degustibus ok cioè per esempio ad alcune persone piace mangiare il chou tofu degustibus e basta così va bene con questa piccola frase concludiamo la lezione di oggi concludiamo anche l'unità 29 io come sempre vi do appuntamento alla prossima lezione nella quale inizieremo l'unità 30 e vi auguro buono studio buon lavoro ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti